Creeper! Piano, 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 spada! Ecco qua! Beccati! Questo! Ah, un po' di creeper call è quello che si vuole! Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo e fantastico video! Allora, lo scorso video di Minecraft nella vita reale vi è piaciuto tantissimo, quindi bella faccia, mantiene sempre le promesse. Siete arrivati non a 20.000 ma a 30.000 di più mi piace, quindi porterò un altro incredibile video di Minecraft nella vita reale. Ma voi mi raccomando dovete lasciare un super like e mi raccomando arriviamo almeno a quanti mi piace sempre 20.000 per un nuovo episodio di Minecraft nella vita reale. E vi ho promesso una vanilla, quindi cominciamo una vanilla! Forza! Cominciamo! Via! Forza! Allora, nello scorso video mi ero procurato una spada e tutti gli altri attrezzi. Oggi andremo in giro e ci procureremo altri materiali. Mi serve anche un'armatura in ferro. Quindi dobbiamo cercare un giacimento di ferro. Vediamo ferro, sei qui da qualche parte? Vediamo, sicuramente qua su ci potrebbe essere del ferro. Allora, un po' di legno mi serve. Ferro, sei qui da qualche parte? Ecco, forse potrei ricavare del ferro laggiù, ragazzi. Andiamo, 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 facciamo un saltino. Aio, che male, che botta. Nulla di che, solo qualche cuore in meno. Allora, ecco il ferro. È proprio lì. Ci dobbiamo muovere, ci dobbiamo muovere. Ok, perfetto, sì, una griglia ci potrebbe stare come ferro. Ferro, procuriamoci del ferro, ragazzi. Sì, 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 vai, 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 vai. Oh, ecco il ferro. Quello che ci voleva. Ecco qua, ferro. Perfetto, abbiamo trovato anche il ferro. Adesso, ragazzi, ci serve da trovare il carbone. Perché l'altro l'avevo finito. Oh, guardate, il carbone. C'è del carbone, non ci posso credere, guardate. Perfetto, ragazzi, abbiamo trovato anche il carbone. Guardate come brilla. Adesso devo trovare una fornace, assolutamente, per cuocere il mio ferro. Ok, penso che qua vada bene. Quindi ci mettiamo il carbone e il ferro. Forza, cuoci, cuoci fornace, cuoci. Oh mio Dio, ragazzi, guardate il ferro. Un lingotto di ferro, non ci posso credere. Siamo riusciti ad ottenere il ferro, finalmente. E ci faremo tante armature. Ok, perfetto. Io adesso prendo un altro po' di materiali e mi creo una bella corassa. Guardate, ragazzi, c'è un maiale. Bisogna estrarre la spada. Vieni qui, maialin panevin. Ci ha droppato una costoletta, ragazzi. Ecco qua. Perfetto, avevo proprio fame. Veramente, veramente buona questa costoletta. Ho recuperato tutti i cuori, finalmente. Ok, vado a farmi l'armatura. Ok, vediamo. Dove posso mettere la mia crafting? Ok, questo direi che è un posto ottimo. Quindi, crafting table. Ok, prendiamo tutto il ferro che abbiamo raccolto, ragazzi. E iniziamo a craftare. Ok, perfetto. Allora, creiamoci subito. Diciamo, possiamo crearci l'elmetto. Ok, facciamo l'elmetto. Eccolo qua! L'elmetto! Non ci posso credere, abbiamo l'elmetto, ragazzi. Ok, adesso craftiamo tutte le altre cose. Degli stivali. Degli stivali abbiamo craftato. Guardate che belli gli stivalini. Dei gambali. Abbiamo craftato dei gambali. Questi sì che ci servono, sono utili. Diciamo, sì, posso mettere dei gambali qua. E non può mancare una corazza in ferro. Ok, abbiamo tutto il set. Quindi, mettiamoci, vestiamoci. Ecco. Ah, adesso sì che sono potente, ragazzi. Ah, ah, ah. Super armature in ferro. Oh, un altro po' di legno è quello che ci voleva. Ma cos'è? Cos'è? Oh, un creeper! Un creeper! Piano, piano, piano. Spada. Ecco qua. Beccati. Questo! Eh, ne vuoi ancora, creeperino? Forza, fatti avanti, vieni. Eh, forza. Non ho paura di te, beccati questo! Sì! Forza, l'abbiamo ucciso! Forza, l'abbiamo ucciso! Sì! Sì! Ce l'abbiamo fatta! Stai a terra, creeperino! Sì! Ce l'abbiamo fatta! Ah, ah, ah! Abbiamo droppato la testa di creeper! Abbiamo droppato la testa di quel creeper, ragazzi! Ah, ah, ah! Nulla è potente come la spada di bella faccia! Ah, ah, ah! Forza, creeperini! Fatevi avanti! Guardate, ragazzi! Abbiamo trovato un villager! Proviamo a commerciare! Ah! Ma questo non lo vuole! Questo lo vuoi? Nemmeno! Oh, questo lo vuole! Grazie! Grazie, villager! Ci vediamo, eh! Ciao! Oh, no! C'è un altro creeper! Per fortuna, c'ho la mia pozione super di forza 2! Ah, ah! Non ho paura di te, creeper! Adesso sono fortissimo! Beccati questo! Ah, ah! Oh, non gli abbiamo fatto niente! Ci vuole la spada! Forza, vieni qui, creeperino! Ah! Ah, ah! Oh, cavolo! Forse ci vuole un altro colpo per distruggerlo! Ah! Sì! Se l'abbiamo fatta! Se l'abbiamo fatta, forse! Sì! Sì! Addio, creeper! Ok, sono tornato dentro casa mia, ragazzi! Mmm, quasi quasi mi viene voglia di provare a tirare un enderpearl dentro casa mia! Proviamo! Ok, ecco qua, eh! Proviamo! Uno, due, tre! Vai! Oh! Oh! Sono ancora intero! Sì! Prendiamone un'altra! Eccola! Tiriamola là! Hop! Oh! 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 Mamma mia! Che volo! È un po' buio dentro casa mia, eh! È meglio prendere una torcia, ragazzi! Salve! C'è qualche creeper? Qualche creeper nelle vicinanze? Qui in casa mia comunque è tutto tranquillo, eh! Oh cavolo! Oh cavolo! No! 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 Eh, mi c'è spenta la torcia, porca miseria! Sapete che cosa, ragazzi? Non ho ancora dormito nel mio letto! Devo impostare il mio punto di rigenerazione! Quindi, lettino! Adesso dormiamo! Voglio dormire proprio come su Minecraft! Ok, dormiamo! Eccoci qua! Che bella dormita! Allora, dopo torniamo dentro il bosco, eh! Oh no! Cavolo! Per sbaglio ho premuto la Q! Fatemi riprendere la spada! Ecco qua! Scusate! Ok, torniamocene nel bosco! Oh! No cavolo! Sono morto per fortuna che avevo dormito nel letto! Tutte le mie cose! Tutte le mie cose! Sono tutte per terra! Riprendiamole, cavolo! Riprendiamole tutte! Cavolo la spada! Guardate l'armatura! Porca miseria! Stavo per perdere la mia nuova armatura! Ecco qua! Riprendiamoci tutte le cose! Sapete, mi è venuta anche fame, eh! Ok ragazzi! Ho messo delle mod su Minecraft nella vita reale! Volete vedere le mie nuove super spade? Ecco qua! La spada del pollo! Guardate che bella! Ho la spada del pollo! Adesso sono super indistruttibile! Poi la prossima spada è la spada... Oh! Aciupa ciupa! È una spada aciupa ciupa gigante! Questa è forte ragazzi! Chissà quanto attacco ha? Secondo me ha più attacco della spada di diamante! Forza dolci! Non vi temo! Voglio provare a cuocere un bel maialino dentro il mio forno! Vieni maialino! Ecco cuociamoti! Ciao mio caro maialino! Oh! È pronto! Oh sì! È pronto il nostro maialino! Ok! Molto buona questa costaletta! Ragazzi a giocare a Minecraft nella vita reale viene un sacco di fame e un sacco di sete! Uh del latte! Ho trovato anche delle banane! Veramente buone! Ho trovato anche una bevanda! Chissà che pozione... Era nausea! Beh ragazzi sapete che cosa vi dico? Adesso vado un attimo in bagno e poi me ne torno nel bosco! Ah ci vuole proprio! Ah! Oh scusate! Ok siamo pronti per tornare nel bosco ragazzi! Forza! Ma che cosa? Revi ma cosa stai facendo? Oh! Oh! Ah no! Sono io! Sono io! Vuoi combattere eh? No no non voglio combattere scusa non avevo visto che eri idea ma cosa si fai qui? Eh stavo giocando a Minecraft ma cosa stai prendendo della pietra? Sì dovevo finire di farmi la mia casetta! Ah ti va l'ora di giocare insieme? Ok va bene! Ok perfetto! Allora ragazzi se arrivate a 30.000 mi piace giocheremo con questo nuovo giocatore! Sì! La Revi! Ciao! 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 Grazie a tutti.